L'ESSOS è lanciato dal neopresidente del Tribunale di Nocera Inferiore Robustella e condiviso dal presidente dell'Ordine degli Avvocati Guido Casalino. Le carenze ataviche di magistrati e personale amministrativo degli uffici giudiziari preoccupano non poco per la mole di lavoro rapportato ad un'utenza di 400.000 abitanti per 19 comuni afferenti al Palazzo di Giustizia Nocerino. L'unico modo per continuare a dare risposte ad amministrare la giustizia è fare rete, dice il presidente degli Avvocati. Bisogna creare una sinergia tra magistrati ed avvocati perché noi navighiamo tutti nella stessa direzione, cioè quella di migliorare le condizioni del nostro Tribunale e quindi di assicurare ai cittadini una maggiore efficienza del sistema giustizia. Perché il problema è quello che i cittadini quando si trovano ad affrontare una causa o venire in Tribunale si trovano praticamente scoraggiati, viste le attese, i tempi per ottenere i procedimenti. Quindi è nell'interesse comune sia dei giudici che di noi avvocati affrontare insieme le battaglie che possano riuscire a risollevare il nostro Tribunale. Abbiamo preso atto di questa comunicazione che ha fatto il presidente del Tribunale, il dottore Robustella, che si è insediato ai primi giorni dei mesi di settembre e quindi ha avuto modo di prendere contezza di tutte le problematiche sia strutturali che di organico che affliggono il nostro Tribunale. In particolare in questa lettera che ha pubblicato e della quale noi abbiamo dato ampia notizia, pubblicandola anche sul nostro sito istituzionale, il presidente Robustella ha sollevato le carenze di organico che affliggono il nostro Tribunale, dando atto che mancano attualmente circa una decina di magistrati per completare la nostra pianta organica. Contestualmente il presidente Robustella ha evidenziato che il Tribunale di Noceano Inferiore oramai abbraccia un bacino di utenza di circa 400.000 abitanti che interessa 19 comuni e quindi uno dei tribunali che dovrebbe essere all'avanguardia per efficienza e purtroppo al momento la situazione è un po' deficitaria. Quindi sta cercando di ovviare facendo delle richieste al Ministero di Giustizia per incrementare sia la pianta organica dei magistrati che del personale amministrativo. Per quanto riguarda le problematiche strutturali che affliggono la nostra cittadella giudiziaria, noi come Consiglio dell'Ordine abbiamo già provveduto a segnalare alla neopresidente le criticità che interessano i vari edifici. Abbiamo istituito un gruppo di lavoro che ha lavorato per diversi giorni e ha provveduto a segnalare tutte quelle deficienze e quelle carenze strutturali che attanagliano sia l'edificio del Tribunale che quello del Giudice di Pace che quello che interessa il settore penale. Tutte le criticità sono state già segnalate al Presidente Robustella che si è prontamente attivato per contattare gli organi competenti per procedere agli opportuni interventi di natura tecnica. Noi come Consiglio dell'Ordine saremo sempre al fianco del Presidente con cui c'è un'ottima sintonia e nell'ambito di una reciproca collaborazione abbracceremo tutte le sue iniziative e lo sosterremo in tutte le sue battaglie che farà per il nostro Tribunale.